Le brave bambine vanno in paradiso, sì, ma quelle cattive, dappertutto. Lei è Mrs. Fairy Tail, una tipica casalinga nell'America benestante degli anni 50. Lady! Ha per caso visto la mia Lady? Lady è la sua adorabile cagnetta. E con questa codina all'insù. Impagliata. Certo, facendo così mostri a tutti il tuo popò. Buon pomeriggio, cara. Emerald, la sua migliore amica. Stan ti ha picchiata di nuovo? Stan mi picchia ogni giorno. Stan, il suo perfetto marito. Ogni uomo ha una trappola. Ah, dimenticavo. I tre gemelli Stuart. Si lascia andare. Levate le mutande. E sua madre? Una donna è poco più di una schiava domestica. Tutto sembrava perfetto nella sua vita, quando... Sono diventata un uomo. Dallo spettacolo teatrale Record d'Incassi, scritto da Filippo Timi... Cetriano! Una commedia che racconta il sogno in cui chiunque può vivere e amare liberamente. Emerald, si sta gonfiando? Sì. Ah. Favola. Liberi di essere ciò che si è. Al cinema. C'era una volta una bambina. E dico c'era. Perché ora non c'è più. Perché ora non c'è più.